Per riconoscere il Conegliano Valdobiadene Prosecco Superiore, fondamentale è l'etichetta che riporta in primo piano il nome del territorio, Conegliano Valdobiadene. È possibile la presenza di uno solo dei due nomi della denominazione e della parola Prosecco, accompagnata dall'aggettivo Superiore, ad indicare la zona storica di produzione dello spumante. Quando le uve provengono da un solo comune o frazione, sull'etichetta il nome della località è preceduta dalla parola Rive, il lanno di vendemmia. Infine, ogni bottiglia riporta sempre la fascetta di stato prevista per i vini di OCG, che la rende unica grazie ad un numero identificativo. Il Superiore nasce da un piccolo territorio collinare tra Conegliano e Valdobiadene, dove nel 1876 è iniziata la storia del Prosecco ed ancora oggi si trova la sua migliore espressione. L'area di produzione si snoda tra le cittadine di Conegliano e Valdobiadene, nel nord-est d'Italia, tra Venezia e le Dolomiti. Il Conegliano e Valdobiadene Prosecco Superiore è sintesi della combinazione tra varietà di suoli, clima mite e sapienza degli uomini che si tramandano da generazioni l'arte del lavoro fatto a mano. Solo così è possibile coltivare le ripide pendici delle colline ricamate dai vigneti che creano un ambiente talmente spettacolare da essere candidato oggi a Patrimonio UNESCO. La superficie è limitata a 15 comuni in posizione collinare. Il territorio è il primo elemento di superiorità del Conegliano-Valdobiadene Prosecco Superiore, cui si unisce la lunga cultura di fare spumante, iniziata nel 1876 con la fondazione della prima scuola enologica d'Italia a Conegliano. La scuola enologica ha svolto nel tempo un ruolo fondamentale nel successo di questo vino, determinando lo sviluppo di un metodo spumantistico ideale per la produzione del prosecco e la migliore forma di coltivazione per la vitivinicoltura locale. I produttori di Conegliano-Valdobiadene iniziarono così ad interpretare al meglio i vitigni che concorrono la produzione del proprio vino e a mettere a punto la vinificazione per esaltare le caratteristiche aromatiche, l'eleganza, la freschezza e la vitalità che lo contraddistinguono. E come richiedono la natura dei luoghi e la loro stessa antica tradizione, essi continuano a lavorare la vite sulle colline e a vendemmiare le uve rigorosamente a mano, grappolo per grappolo. Lo spumante si può distinguere per provenienza territoriale. Il rive è prodotto da uve provenienti da un unico comune o frazione di esso. Nel comune di Valdobiadene, in una piccola sottozona di soli 107 ettari, si produce il cartizze, la più importante espressione della DOCG. Le caratteristiche del Conegliano-Valdobiadene prosecco superiore si esprimono appieno nell'anno successivo alla vendemmia. Negli anni i profumi si evolvono dal fruttato floreale a quelli più maturi e vinosi. Il prosecco superiore presenta tre versioni che si distinguono per residuo zuccherino. il brut, il più secco, l'extra dry, la versione più tradizionale, il dry, con residuo zuccherino più alto. Fresco ed elegante, versatile e dalla moderata alcolicità, il Conegliano-Valdobiadene si presta a molteplici occasioni di consumo, dall'aperitivo al dessert, per accompagnare momenti informali ed incontri dal sapore più raffinato. Il carattere versatile di questo vino lo rende perfetto poi per l'esplorazione di nuovi orizzonti gastronomici, offerti dalle cucine anche più diverse ed esotiche. Dalla bellezza generosa delle nostre colline si apre al mondo la poesia di un vino unico ed inimitabile, che sa incantare al primo sorso e riconciliare con la vita. Grazie. Grazie. Grazie.